Vai! Guarda, indietro! Verticale qua? Ah, guarda questo eh! Stai chiedendo! Ah! No Simo! Stai già registrando, questo pare devi schiacciarti sempre per fare le cose! Cosa? Sto a fare, devi schiacciarti sempre per fare le cose! Occhio, occhio, occhio! Vai, uno dietro l'altro! Vai! Vai Simo! Aspetta! 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 Oh, uno più al canale! Minchia! Grazie! Vai, vai! Oh! Oh! Che male! Che male! Oh! 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 Andre, vai lì dietro! Hai visto? Ancora, oh! Andre, però piccolato, piccolato! hai ancora! Oh! Ow! Ah! Ah, 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 ah! Oh, qua! Oh! Ah! E' andata su, che paura hai bagnato, mi sono andato in un po' di destra Vai Andrea, tu sai che bomba di qua? Marco con la sedia, Marco con la sedia Guarda, guarda che putte giù ha Oh, basta, basta Andrea Vabbè, mica la foca Oh, guarda giù, guarda giù, guarda giù Oh, c'è uno scopo di giù Eh, c'è uno scopo di giù C'è uno scopo di giù, guarda giù Andrea, no, Andrea Eh, è una bici, non si può fare Guarda giù Grazie